Anna Freud, L'Io e i meccanismi di difesa, 1961. Conclusioni. Nei capitoli precedenti ho cercato di classificare i vari meccanismi di difesa secondo le specifiche situazioni ansiogene che ne stanno alla base e ho illustrato le mie osservazioni con un certo numero di esempi clinici. Una conoscenza più profonda dell'attività dell'inconscio ci permetterà un giorno di stabilire una classificazione più precisa. La connessione storica tra le esperienze tipiche che fanno parte dello sviluppo di un individuo e la produzione di particolari meccanismi di difesa resta ancora in gran parte oscura. Gli esempi da me esposti fanno supporre che le situazioni tipiche in cui L'Io ricorre al meccanismo del rinnegamento siano quelle associate con le idee di castrazione o con la perdita degli oggetti amati. D'altra parte, pare che la rinuncia altruistica dei moti pulsionali sia in determinate condizioni un mezzo specifico per superare un'umiliazione di carattere narcisistico. Allo stadio attuale della nostra conoscenza, possiamo già parlare con maggiore cognizione di cause dei parallelismi tra le varie misure difensive contro i pericoli esterni ed interni. La rimozione serve a eliminare i derivati pulsionali e il rinnegamento gli stimoli esterni. La formazione reattiva preserva l'Io da una riapparizione dall'interno degli impulsi rimossi, mentre le fantasie in cui la situazione reale viene capovolta impediscono che la negazione venga demolita dall'esterno. L'inibizione dei moti pulsionali corrisponde alle restrizioni imposte dall'Io onde evitare ogni sofferenza proveniente dal mondo esterno. L'intellettualizzazione dei processi pulsionali, che ha la funzione di proteggere da un pericolo interno, equivale allo stato permanente di vigilanza dell'Io contro i pericoli esterni. Tutti gli altri meccanismi di difesa, che, al pari della trasformazione nel contrario e del rivolgimento contro se stessi, implicano un'alterazione vera e propria dei processi pulsionali, trovano la loro contropartita nei tentativi falliti dall'Io per fronteggiare i pericoli esterni con un intervento attivo tendente a modificare le condizioni esistenti nel mondo circostante. Non posso tuttavia dilungarmi in questa sede su quest'ultimo aspetto dell'attività dell'Io. Questo confronto tra processi paralleli ci porta a domandarci quali siano le ragioni che inducono l'Io a scegliere un determinato meccanismo di difesa, piuttosto che un altro. La lotta contro le forze esterne si modella sul conflitto con le pulsioni o, piuttosto al contrario, le misure difensive adottate nella lotta esterna sono il prototipo dei vari meccanismi di difesa. Tra queste due alternative è difficile prendere una posizione netta. L'Io infantile subisce nello stesso tempo l'assalto delle pulsioni e quello degli stimoli esterni. Se vuole sopravvivere, deve difendersi contemporaneamente su due fronti. In questa lotta che deve sostenere contro gli stimoli più diversi, L'Io modifica probabilmente le sue armi a seconda del bisogno, adattando le sue misure difensive ora ai pericoli provenienti dall'interno, ora a quelli derivanti dall'esterno. Nella sua difesa contro le pulsioni, fino a che punto L'Io segue le proprie leggi e fino a che punto viene invece influenzato dalla natura delle pulsioni stesse? Forse si può trovare una spiegazione al problema confrontandolo con il processo analogo della distorsione onirica. Il lavoro onirico non viene attuato dall'Io. La traduzione dei pensieri latenti, del sogno, in contenuto manifesto, dipende dalla censura che nel sonno funziona da rappresentante dell'Io. La condensazione, lo spostamento e i diversi strani modi di rappresentazione che troviamo nei sogni sono dei processi specifici dell'Es e vengono utilizzati soprattutto per uno scopo ben preciso, quello della deformazione del contenuto. Allo stesso modo i vari meccanismi di difesa non sono solamente un'attività dell'Io. Le particolari proprietà della pulsione sono utilizzate nella misura in cui gli stessi moti pulsionali vengono modificati. Per esempio, la capacità di spostamento di questi processi faciliterà il meccanismo della sublimazione, per mezzo della quale l'Io può dirottare i moti pulsionali da un fine puramente sessuale a degli scopi che la società ritiene più nobili. Inoltre, l'Io si serve della capacità di trasformazione del contrario nella pulsione per assicurare la rimozione per mezzo di formazioni reattive. Possiamo perciò supporre che un sistema di difesa resiste agli attacchi solo se poggia su una duplice base, l'Io da una parte e processi pulsionali nel loro carattere essenziale dall'altra. Tuttavia, anche ammettendo che l'Io non sia completamente libero nella sua scelta dei meccanismi di difesa, nello studio di questi meccanismi ci colpisce la portata dei risultati che l'Io così raggiunge. L'esistenza stessa dei sintomi nevrotici indica che l'Io è stato sopraffatto e ogni ritorno di pulsioni rimosse, con la sua sequela di formazioni di compromesso, è indice di una sconfitta dell'Io. L'Io è vittorioso quando le sue misure difensive raggiungono lo scopo, quando cioè esse gli permettono di arginare l'angoscia e la sofferenza e gli assicurano, grazie ad una trasformazione delle pulsioni, un certo soddisfacimento anche in circostanze difficili, stabilendo così, per quanto possibile, un accordo armonico tra Es, Superio e le forze del mondo esterno.